Aeroporto, provincia e comune di Licata si confrontano. Dopo il muro contro il muro tra l'ex presidente Eugenio Dorse e l'allora sindaco Angelo Graci, adesso il nuovo sindaco Angelo Balsamo e il commissario Benito Infurnari, al termine di un incontro svoltosi nella giornata di ieri, hanno comunicato che altri confronti si svolgeranno sui temi della fattibilità della struttura aeroportuale. Entrambi, a dire il vero, non si erano fino ad oggi spesi sulla possibilità di realizzare l'aeroporto, ma adesso sembra che un confronto sui temi sia possibile. Dal suo punto di vista la provincia ha sostenuto le tesi fin qui già avanzate, ovvero che la struttura è fattibile da un punto di vista economico e progettuale e che ancora oggi sono previsti 30 milioni di euro nel PARFAS 2007-2013 per la sua realizzazione. Che il progetto sia economicamente sostenibile e conseguentemente rappresenta un obiettivo da centrare per un ente intermedio, scrivono dalla provincia, lo dimostrano gli studi economico-finanziari condotti dalla KMG. Mentre da un punto di vista della viabilità, le seppur innegabili modeste condizioni di transitabilità delle strade provinciali non potranno vanificare la potenzialità dello scalo aeroportuale, progettato se solo verrà garantita la sicura transitabilità delle strade a scorrimento veloce di competenza statale. Passaggio delicato è quello che riguarda gli agricoltori che in atto coltivano le terre su cui dovrà sorgere l'aeroporto. Risulta innegabile che un sacrificio ai produttori agricoli operanti nell'area in cui sarà realizzata l'infrastruttura dovrà comunque essere richiesto, scrivono ancora dalla provincia. La struttura non può essere ubicata in cima ad una montagna ma in aria pianeggiante, sgombra di immobili e conseguentemente oggi appetibile per le colture agricole praticate in zona. L'unica rassicurazione che in tal senso la provincia avanza è quella che gli accantonamenti previsti come indennizzo per le aree da espropriare tengono già conto del sacrificio richiesto ai proprietari che potranno acquisire in zona superfici agrarie con pari potenzialità produttive ed oggi inutilizzate. Infine la stilettata. Si evidenzia la nuova amministrazione comunale, scrive la provincia, che tutta la documentazione a corredo di quanto sopra riportato è già nella disponibilità del comune di Licata cui è stata immiata nel secondo semestre del 2012 per il rilascio del parere di rito sul progetto per quanto sopra nessuna destinazione urbanistica specifica e conseguentemente nessun vincolo preordinato alla espropriazione risulta oggi apposto sull'area dove il progetto ha ubicato l'infrastruttura.